ciao cari fratelli e sorelle nel signore gesù cristo benvenuti ad un nuovo video io vi saluto e vi benedico tutti nel nome sopra ogni altro nome che il nome del signore gesù cristo l'odiamo e ringraziamo il signore per la sua opera sulla croce perché tutti coloro che credono alla crocifissione di gesù cristo e alla resurrezione di gesù cristo verranno salvati chiunque chiama il nome del signore verrà salvato amene alleluia oggi torno online cari fratelli e sorelle per condividere con voi gli ultimi due messaggi che il signore mi ha fatto ricevere quindi il primo è un sogno e il secondo è una visione sono tutti e due del maggio 2019 li volevo condividere molto prima però non ce l'ho fatta fino adesso scusate quindi lo faccio ora il primo messaggio è un sogno del signore che ho ricevuto la sera dopo aver caricato l'ultimo video che ho caricato sul mio canale che era un video sul sull'adempimento della pentecoste dopo aver caricato quel video il signore mi ha dato un sogno la stessa notte e questo è ciò che ho visto nel sogno io ero nel mio appartamento dove abito con mio marito e siamo dovuti uscire subito dall'appartamento molto in fretta non so cosa sia successo non ricordo però comunque siamo dovuti uscire subito dall'appartamento cosa che abbiamo anche fatto mentre stavamo in strada con le nostre valigie le nostre borse insomma mio marito ha puntato il dito al cielo e mi ha detto guarda là sopra c'è un appartamento libero io conosco il padrone di casa so che è molto molto gentile e sono sicuro che l'appartamento lo possiamo avere sono sicuro che ci fa vivere lì a questo punto allora nel sogno noi siamo andati a vivere in questo appartamento nuovo che sembrava essere tra le nuvole praticamente già perché era molto molto in alto già mio marito ha puntato al cielo quando eravamo in strada mi ha detto lassù c'è un appartamento libero però poi quando siamo siamo entrati in questo appartamento a vivere l'appartamento era veramente molto molto in alto penso che fosse un grattacielo altissimo e l'appartamento fosse agli ultimi piani sopra nel grattacielo perché si vedeva delle finestre che era molto in alto e questo era il sogno e questo questo sogno è una parabola come come tanti altri sogni che il signore dà spesso sono parabole di ciò che troviamo scritto nella bibbia per esempio questo sogno è una parabola sia di primo corinzi capitolo 15 verso 52 che dice che il rapimento succederà in un battito di ciglia adesso sto parafrasando dall'inglese perché la frase della bibbia ce l'ho in inglese in testa però comunque parafrasando questo versetto della bibbia dice che il rapimento succederà molto molto in fretta in un battito di ciglia e questo è proprio ciò che io ho visto nel sogno siamo dovuti uscire proprio in fretta subito dall'appartamento l'appartamento nel mio sogno rappresenta il mondo uscire così di fretta dall'appartamento nel sogno significa che stavamo e quello era il rapimento siamo dovuti uscire molto in fretta dal mondo insomma questo è questo il primo versetto della bibbia che va assieme a questo sogno poi c'è anche giovanni capitolo 14 verso 2 dove gesù stesso il signore ci dice che lui sarebbe andato via a preparare un posto per noi e ci dice che a casa di suo padre quindi da dio in cielo ci sono tanti appartamenti e lui sarebbe andato a preparare un posto per noi e questo è proprio ciò che io ho visto in questo sogno siamo dovuti uscire velocemente dall'appartamento all'improvviso proprio come il rapimento e poi siamo stati siamo andati a vivere un appartamento nuovo che era molto molto in alto in cielo e questo rispecchia giovanni 14 2 ok e questo insomma era il sogno che ho ricevuto poi alla fine di maggio 2019 ho ricevuto una visione dal signore la mattina dopo essermi svegliata nel mio letto ho visto ho visto questa cosa il signore mi ha mostrato questa cosa ho visto me stessa seduta in un ristorante ero seduta a tavolo e all'improvviso ho iniziato a risplendere c'era una luce molto molto calda molto 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 chiara tutto intorno a me e questa luce sembrava provenire da me stessa e ricordo che lucicavo lucicavo risplendevo fino a quando sono sparita sono stata proprio presa da questa luce ero seduta nella sedia c'era tutta questa luce attorno a me che sembrava provenire da me stessa all'improvviso sono stata tirata fuori da questa luce verso su e sono sparita ricordo anche che in ristorante c'era una una coppia di anziani che erano seduti che mi guardavano come se con degli occhi giganteschi come se non potessero credere a quello che stavano vedendo e questa era e questa era la visione poi mi sono mi sono svegliata e anche questa visione vedete è perciò che io vi dico che il rapimento è imminente il signore sta venendo a prenderci perché sia questo sogno che vi ho raccontato sia la visione che ho ricevuto hanno tutti e due lo stesso tema è come se il signore mi stesse mostrando quanto urgente è questa cosa va bene e il fatto che io sia stata il fatto di essermi vista così risplendere in luce questo lo troviamo anche nella bibbia nel libro di daniele nel capitolo 12 al verso 3 questo è un capitolo che parla della fine dei tempi e lì sta scritto che le persone lì sta scritto che i giusti che possono essere solo quelli che credono a gesù perché la bibbia dice che noi abbiamo ricevuto della sua giustizia quindi se siamo giusti è perché abbiamo abbiamo ricevuto gesù non perché siamo giusti noi ok quindi la bibbia in daniele dice che alla fine dei tempi i giusti e coloro che hanno portato tanti alla giustizia che sono i cristiani comunque lo stesso che queste persone risplenderanno come delle stelle nel firmamento e questo è ciò che io ho visto perché siamo giusti noi cristiani come ho appena detto perché a noi c'è stata data della giustizia di dio ok noi diventiamo giusti il momento in cui crediamo a gesù cristo diversamente non c'è modo di diventare giusti davanti a dio lo dice la bibbia anche e perché siamo e noi siamo noi cristiani quelli che hanno ricevuto gesù ok e per questo sono giusti queste sono le persone che porteranno anche tanti altri alla giustizia perché noi abbiamo accettato il vangelo conosciamo gesù l'abbiamo l'abbiamo accettato nei nostri cuori e siamo in grado anche di dirlo a un'altra persona che ci sta a fianco siamo in grado di passargli il vangelo affinché anche questa persona che non crede diventi giusto agli occhi di dio ok e questo insomma è ciò che io ho visto nel nel sogno c'è da dire anche l'ultimo messaggio che ho caricato su questo canale era un messaggio sull'adempimento della pentecoste il rapimento della chiesa il signore l'ha fatto vedere spesso adesso il rapimento della chiesa e l'adempimento della pentecoste noi oggi siamo in pentecoste oggi è domenica domani è lunedì di pentecoste ma il fatto che il signore abbia fatto avere quel sogno sulla pentecoste non vuol dire che lui stia arrivando oggi o domani magari fosse gloria a dio se se fino a domani mattina non ci siamo più su questo mondo siamo nella gloria del signore gloria a dio se dovesse essere così però io ve lo sto dicendo questo per farvi coraggio non vuol dire che se il signore non arriva oggi o domani non vuol dire che questa cosa duri ancora 10 o 100 anni come alcune persone pensano guardate questa è una cosa che sta scritta anche nella bibbia il calendario che usiamo noi non è lo stesso calendario che usa dio perché perché nella bibbia c'è scritto che il che lo spirito di questo mondo quindi lo spirito dell'anticristo ha cambiato i tempi adesso non ricordo bene dove sta scritto nella bibbia comunque c'è ha cambiato i tempi questo vorrebbe dire anche praticamente che lo spirito di questo mondo ha cambiato i calendari per questo noi per questo dice la bibbia anche che il rapimento succederà in un momento dove nessuno lo sa che nessuno sa qual è il giorno o l'ora di questo momento perché perché se sono sballati i calendari come facciamo noi a farci due conti è impossibile però guardate non perdete la speranza perché anche se i calendari sono sballati no non è di tanto almeno questo è ciò che io sto sto ricevendo del signore anche nello spirito anche se i calendari sono sballati non sono non sono sballati di tanto non c'è tanta differenza quindi questo questo adempimento della pentecoste anche se non succede questo fine settimana è aperto va bene può essere in due settimane può essere in un mese può essere un mese e mezzo può essere anche in un anno cosa che io non penso che che duri ancora un anno prima che il signore torni però io sono solo una persona umana e posso sbagliare solo il signore sa tutto perché perfetto a me ne gloria a dio ciò che io vi voglio dire con questo è non perdetevi d'animo perché comunque anche se anche se dovesse durare ancora due settimane quattro settimane un mese due mesi sei mesi un anno il periodo insomma che noi dovremmo ancora aspettare prima che il signore arrivi non è niente comparato all'eternità capite anche se noi adesso siamo qui ancora due settimane un mese due mesi sei mesi un anno non è niente comparato all'eternità credetemi io sicuramente sono l'ultima l'ultima che desidera stare qui ancora un anno penso che tanti di voi la penseranno come me quindi siamo tutti in questa barca assieme non perdetevi d'animo il signore sta tornando sta tornando guardate anche anche la visione che ho avuto io mentre stavo seduta nel ristorante ok io sono stata portata via da lì da mezzo da questa luce sono stata aspirata nel cielo ma le persone che erano in ristorante mi guardavano quelle sono persone che simbolizzano il mondo perché il giorno che Gesù ci tira fuori da qui e ci porta via nessuno potrà più negarlo capite il mondo sarà in uno stato di shock di shock perché pensavano che Gesù Cristo fosse una fiabba no e che la Bibbia l'avessero scritta persone che non c'erano con la testa perché questo così il mondo vede la Bibbia lo vede come un libro di storielle di fiabbe che persone che non avevano niente a che fare tutto il giorno hanno scritto 5.000 anni fa capite in questa condizione il mondo ma si dovranno ricredere quando quando il signore porterà via milioni e milioni se non miliardi di persone da questo mondo che comunque sarà un piccolo gruppo comparagonato a tutte le anime che ci sono adesso sul mondo perché sul mondo adesso ci sono 7 7 miliardi di persone se non sbaglio forse siamo anche a 7 e mezzo 7,5 di questi 7,5 miliardi di persone guardate sarà un miracolo se un miliardo ce la fa ad andare perché la maggior parte della gente non ne vuole sapere niente di Cristo capite la gente è occupata con tantissime altre cose ma se sentono il nome di Cristo si offendono o se sentono il Vangelo quindi questa è la situazione del mondo il signore sta tornando le persone che non sono salve avranno lo shock della loro vita ok la Bibbia dice addirittura che ci saranno persone che che il cuore di certe persone non reggerà quello che vedranno noi ci auguriamo questo momento con tutto il cuore perché amiamo il signore vogliamo essere con lui ma per tutti gli altri che non sono con il signore sarà un giorno di terrore di terrore quindi adesso finché c'è ancora tempo cercate di passare il Vangelo avanti dite alle persone che Gesù li ama a tutti che li sta aspettando tutti a braccia aperte che devono solamente fare un passo verso di lui per essere salvati e per scampare a tutto quello che sta arrivando su questo mondo tutto ciò sulla quale il signore ci aveva avvisato già duemila anni fa è tutto qui il rapimento ormai è la prossima cosa che deve succedere perché ormai tutto il resto tutte tutti gli altri campi di tutte le cose del mondo della politica della del mondo del lavoro tutte queste cose sono tutti i campi che stanno implodendo in se stessi non raggeranno più quindi è tutto pronto affinché il mondo esploda noi stiamo aspettando solamente che il signore arrivi e ci porti via da qui e sta per succedere sta per succedere non perdetevi d'animo dio vi benedica tutti grandemente e porti tutti coloro che ancora non lo conoscono sulle loro ginocchia a chiamare il suo nome prima che sia troppo tardi dio vi benedica amen alleluia e gloria al signore Gesù Cristo se tu professerai con la tua bocca Gesù come signore e crederai nel tuo cuore che dio lo ha risuscitato da morte sarai salvato col cuore infatti si crede per ottenere la giustificazione con la bocca si fa la professione per ottenere la salvezza dice infatti la scrittura chiunque crederà in lui non rimarrà confuso vi richiamo poi o fratelli il vangelo che vi ho annunziato e che avete ricevuto nel quale perseverate e dal quale ricevete la salvezza se lo ritenete nei termini con cui ve lo ho annunziato altrimenti avreste creduto in vano vi ho dunque trasmesso anzitutto quello che ho ricevuto che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture in lui anche voi dopo avere udita la parola della verità il vangelo della vostra salvezza e aver creduto siete stati segnati con lo spirito santo che fu promesso questi è l'anticipo della nostra eredità per il riscatto della sua proprietà all'ode della sua gloria grazie Grazie per la visione Grazie per la visione